Grazie. 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 Grazie a tutti. Buonasera. Bentornata, dottoressa. Grazie. Grazie di aver accettato l'invito. Grazie. E alla mia destra, invece, abbiamo la dottoressa Tiziana Bussola, che è psicoterapeuta. Buonasera. Buonasera. Bentornata. Ecco, entrambe esperte nella cura, diciamo, dei dipendenti di cocaina. Una delle tante mail, diciamo che, delle mail che ci scrivono i nostri telespettatori, appunto, non tanto coloro che utilizzano la sostanza, ma coloro che stanno a fianco delle persone che abusano di queste sostanze, quindi disperate, perché ci chiedono, dopo aver visto le varie puntate dove abbiamo trattato, come poter interagire alle tante bugie che l'altro, che il compagno dice. Quindi, non si preoccupano tanto del discorso, cioè, salute altrui, ma proprio il problema è che non si sa più neanche distinguere la realtà dalla bugia. Quindi partirei dalla dottoressa Antonia Cinquegrana. Beh, diciamo che l'uso di una sostanza psicotropa come quella della cocaina determina delle dispercezioni un po' della realtà, che possono essere anche non fortissime, tant'è che le persone riescono a mantenere per un certo periodo un buon equilibrio nella famiglia, nel lavoro, eccetera. Le cose alla lunga diventano invece intollerabili e di conseguenza i nostri futuri pazienti, come prima cosa, non riescono facilmente a rimanere all'interno di una relazione affettiva e familiare, perché ovviamente le persone che gli vogliono più bene sono quelle che maggiormente si accorgono anche di piccole e grandi defiance di questa persona, che magari delle persone che gli sono più lontane, affettivamente, o meno attenta alla persona, fanno fatica a cogliere. Di conseguenza è ovvio che il rapporto di coppia facilmente salta, perché magari queste signore incominciano a essere più incalzanti, incominciano a mettere più i puntini sulle i, e questi uomini che non vogliono, in fin dei conti, ammettere più di tutto a se stessi, e poi ovviamente anche alla loro compagna, incominciano a dare racconti distorti, a raccontare delle cose che sono magari in parte sperate da loro e non sono, e quindi ovviamente in questo peggiorando fortemente il rapporto di coppia, per cui le cosiddette bugie, le falsità che ci sono nelle persone che usano cocaina, sono tante volte dettate nel tentativo di gestire un rapporto sentimentale, a cui comunque danno valore, cercando di salvarlo, e invece in questo modo peggiorano fortemente. Ecco, ma bugie che anche loro stessi credono, o avendo una ben chiara concezione? Diciamo che non sono bugie, come dire, sono in genere inerenti a un qualcosa per coprire un loro comportamento e delle loro malefatte, per cui sono tanto più bugie quanto più una cerca di incalzare nella situazione, cioè nel senso che più la cosa è incalzante e evidente, più questi signori evitano di confrontarsi con questo aspetto della realtà, perché la minaccia comunque di una rottura di legame è comunque una condizione intollerabile, ma contemporaneamente non c'è appunto sia per degli aspetti dispercettivi, sia perché comunque il processo di dipendenza è un processo complesso, si tendono ad allontanare sempre di più la percezione del danno che questo provoca, ma un danno che naturalmente è nella relazione oltre che economico, fisico, eccetera. E quindi l'evitamento, cioè sono bugie perché è un modo per evitare di confrontarsi con la realtà, la realtà e delle responsabilità e delle conseguenze, per cui il rapporto poi diventa un rapporto che peggiora nel tempo e minaccia una rottura. Chiaramente anche perché presumo che per chi sta accanto ad una persona che comunque schiava, diciamo, di una dipendenza e quindi non un utilizzo saltuario sia difficile. Sì, ma la cosa è molto difficile non solo per le bugie, ma perché c'è un'alternanza continua fra promesse e bugie. Per cui quando queste mogli, compagne arrivano a essere frustrate, esauste, è perché hanno vissuto una continua oscillazione nelle relazioni fra un'attesa salvifica, no? Di promesse, di un cambiamento e una realtà che è sempre meno positiva in termini di cambiamento. Ecco, un'altra domanda che mi fa, tra le più, se vogliamo dire, gettonate, è, scrivono, smettere un mese, tre settimane, un mese e mezzo, significa uscire dalla dipendenza da cocaina o è semplicemente un prendersi in giro e quindi diventa un uso saltuario? Quindi non sono più dipendente, diciamo, di questa sostanza, ma la uso semplicemente quando mi fa più piacere a me, diciamo, ecco. Allora, diciamo che la domanda che fate è abbastanza complessa, nel senso che da un punto di vista strettamente medico il concetto di dipendenza è differente da quello che normalmente si usa nella quotidianità, nel parlare normale. Perché ad esempio, per definire che una persona è tossicodipendente, deve per almeno un periodo di un anno avere tutta una serie di segni e sintomi che io vi restringo in una cosa molto più facile, che significa la percezione da parte del paziente che questa sostanza gli crea un danno e al tempo stesso capire che ne ha perso il controllo. Per cui pensare che pur facendogli male una sostanza, in questo caso la cocaina, non riesce a controllarla. Se non ci sono questi due elementi continuativi nel tempo, per un medico non esiste la dipendenza. Poi si può parlare di abuso, di uso saltuario, eccetera. Differente ovviamente è la percezione del familiare che gli viene accanto, per cui se io ad esempio ho un'idea assoluta che la cocaina sia un qualcosa che non fare mai, anche due volte all'anno, è una cosa che per me può essere intollerabile, cioè non è un discorso medico, è un discorso di relazione per cui io non posso tollerare che mio marito anche due volte all'anno faccia un uso di una sostanza. Quindi tornando sul discorso, se una persona riesce a controllarla e a tenere in equilibrio la sua vita lavorativa, di relazione, di salute, pur essendo ovviamente come medico più che certa che è una sostanza che fa assolutamente male, cioè su questo non c'è dubbio. Però è ovvio che se l'uso della cocaina in una relazione sentimentale, matrimoniale, eccetera, diventa già un problema quanto lo usi, come lo usi, vuol dire già che in quella relazione di coppia è già un grandissimo problema, anche se l'uso magari non è strettamente per un medico da dipendenza. Quanto al fatto di rimanere un mese, due mesi, tre mesi senza usarla. È ovvio che anche, non so, vent'anni di uso di cocaina partono comunque da un primo giorno, dai primi venti giorni, da un mese, da tre mesi. C'è sempre un inizio insomma. È sempre un inizio. Poi è ovvio che se una persona sospende l'uso, ma non attua dei cambiamenti sostanziali del suo modo di affrontare la vita, la sospensione dell'uso io lo chiamo con i miei pazienti come una specie di grande fioretto, cioè i fioretti possono durare 40 giorni come la quaresima, però chi fa il fioretto della quaresima quando poi arriva Pasqua mangia dolci e si abbuffa. Se invece è un discorso che diventa un modo di non vivere insieme a questa sostanza i 40 giorni sono i propedeutici a 40 anni di non utilizzo. Di conseguenza, certo che è importante non usare la cocaina, più lungo il tempo che non si usa meglio, però la cosa più importante è che la persona strutturi dei meccanismi per affrontare la vita senza l'uso della sostanza. Se no, paradossalmente, l'andare in carcere dovrebbe essere il sistema migliore per curare qualsiasi dipendenza. Se viene chiusa una persona in una stanza, anche in un bel club mediterraneo, per un anno o due anni, poi si apre la porta e la persona sta bene. Abbiamo risolto tutti i problemi. E noi lavoreremo anche molto meno. Invece è un lavoro più faticoso perché, come dire, non è il tempo è importante del non uso, ma è il tempo attuando una vita nel mondo, nella società, in cui si struttura un modo di agire che non utilizza questa sostanza per tamponare il tante. Un lavoro che va fatto anche a livello psicologico per capire che cosa sostituisce questa sostanza. Esattamente, sono persone che devono imparare a affronteggiare tutta una serie di sentimenti che possono essere di varissima natura, la noia, la stanchenza, la solitudine. Il successo. Il successo perché, certo, si pensa sempre a quelli negativi, ma ad esempio... Anche gli uomini di più grande successo, in effetti. Cioè, festeggiare, no? Fare di più, avere anche di più. Essere in uno stato di eccitazione. Di felicità per forza, insomma. Molte volte viene accompagnato, oltre a tutti questi aspetti negativi della vita, proprio al successo. Cioè, ha un senso di, come dire, paradossalmente di libertà. Quante volte i nostri pazienti, durante il percorso di cambiamento, prima che si realizzi una scelta profonda di cambiamento rispetto a sé e alla condotta, riescono comunque a pensare, ma per festeggiare qualche volta, me lo potrò ancora permettere, no? Per far festa, non per superare la difficoltà. Perché quando si fa un lavoro di cambiamento, i primi, diciamo, le prime cose che si devono affrontare è la fatica. Il sacrificio, il cambiamento. Però rimane sempre nell'idea del paziente, per molto tempo, l'idea che per festeggiare la cocaina è il massimo. È il massimo, è qualcosa che fa uscire dai problemi. È in più. E ad esempio, devo dire che le prime volte che si vedono i pazienti, rimangono sempre molto colpiti e fortunatamente ci riconoscono una competenza. Quando noi gli ricordiamo... Perché diciamo che Brescia è comunque l'eccellenza in Italia, il vostro centro è l'eccellenza. Per lo meno siamo gli unici, per ora, e quindi siamo per forza i più bravi. Onora al merito. Siamo per forza i più bravi. A chi segue questo... Però, intanto dire, quando noi diciamo a questi signori, sì perché lei la usa, perché, come dicevo, cose negative, la noia, la stanchezza, e poi perché anche quando è contento, perché non esserlo di più? Cioè, questo senso illimitato, anche quando le cose vanno bene, se ho fatto 30, perché non fare 31? Cioè, avere un qualcosa che va... E questo in genere è molto apprezzato nei nostri pazienti appena arrivati, perché dicono, ma... Allora lo sa. Allora lo sa che è così. Quindi è anche una sorta di incapacità di provare delle emozioni forti che devono essere per forza provate attraverso questa sostanza. Sì, 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 con additivo. Con additivo. Con additivo. Sì, con additivo. E questo lo possiamo dire sia per uomini che per donne. Assolutamente. Ecco, perché la Tiziana Bussola, la dottoressa Tiziana Bussola, è più, diciamo, è specializzata più nel campo femminile. Sì, nel senso che... Io direi che credo che abbia la più grande esperienza di donne cocainomani solamente inserite, essendo unici essenzialmente in Italia, direi, perché ne vede tantissime. Sì, da questo punto di vista non c'è una grande differenza nella misura in cui sia donne che uomini decidono di cambiare. Ecco, è il prima che può essere comunque una condizione diversa, nel senso che nella donna, oltre al fatto che adesso, diciamo, quel grande dislivello fra un consumo maschile e un consumo femminile, purtroppo si sta... Si stanno... Sì, sì. Quindi quell'idea che prima era un discorso... Era molto maschile, no? Uomini soffrivano, diciamo, abuso di cocaina e le donne invece soffrivano di bulimia, anoressia o alcol. Rimane comunque ancora un dislivello. Tuttavia la cocaina è di uso così frequente, così facilmente reperibile che è come l'alcol oggi. Quindi, diciamo, anche questa condotta è prendibile e usufruibile da parte delle donne e una percentuale di queste ovviamente poi sviluppa una condizione di dipendenza. dove, diciamo, nelle donne più spesso è legata comunque a vissuti tendenzialmente depressivi, è più legata a dei vissuti di mancanza rispetto a un'immagine di sé un po' squalificata, è un po' svilita, no? Per cui la cocaina è comunque un ausilio ovviamente patologico per compensare profondamente delle condizioni di mancanza, anche negli uomini naturalmente, però nelle donne è più sviluppato. Sì, è più sviluppato ed è più questa una strada per il cambiamento. Certo. I danni ci saranno, immagino, dei danni che viene in mente alla memoria piuttosto che ad altri organi che produce questa sostanza o l'abuso di questa sostanza. Allora, diciamo che... Perché poi sa che la paura, cioè poi si utilizza, ma poi c'è sempre anche la paura del che cosa poi mi succederà o potrà succedere. Allora, diciamo questo, che innanzitutto l'uso di una sostanza, come sempre, dipende da che tipo di organismo si va a introitare una sostanza. E quindi, ad esempio, usare cocaina a 20 anni non è la stessa cosa che usare a 70, perché ovviamente l'organismo in cui si introduce una sostanza, cioè la cocaina, è diverso. E quindi si hanno livelli di reazioni sul singolo individuo che sono diverse. La cocaina, devo dire che però, i danni maggiori li fa soprattutto all'immediato, a differenza di altre sostanze. Nel senso che, a lungo termine, i danni della cocaina sono ancora da dimostrare. In alcuni topi cresciuti a cocaina sono dimostrati. Negli uomini, in realtà, dei danni permanenti nel lungo termine, a tutt'oggi, non hanno una dimostrazione nella clinica. Quello che invece è dimostrato, è certissimo, è invece il danno acuto. Il danno acuto che può essere essenzialmente, vabbè, a livello cardiovascolare, per cui si possono avere situazioni di tachicardia, di aritmie molto gravi, si può giungere fino all'infarto, si possono avere degli ictus. Alzamento di pressione. Certo, per bacco. Per cui, intendo dire, capite che, se la cocaina viene usata da un grave iperteso, rispetto a una persona sana e giovane, è ovvio che la possibilità di infarto, o la possibilità di ictus, o la possibilità di, comunque, di tutta una serie di patologie cardiovascolari, ovviamente si incrementa, in termini assolutamente differenti. Sicuramente la cocaina, tra i suoi effetti, può determinare delle psicosi acute, anche in persone assolutamente psichicamente sane, tant'è che, quando ci sono queste psicosi acute, nel momento immediatamente, poco dopo la cede, l'immediatezza dell'assunzione, come dire, uno psichiatra che vede in un pronto soccorso una persona con una psicosi acute da cocaina e non sa che c'è stata l'assunzione di cocaina, non è in grado di differenziarla da una psicosi acuta di un paziente psichiatrico, per cui va trattata, così come l'infarto da cocaina, le aritmie da cocaina, con gli stessi identici farmaci che si usano per un infarto dovuto a una causa vascolare non legata alla sostanza o a cause psichiatriche. Quello che in genere succede è che nel giro di, quando uno ha uno scompenso psichico di questo genere, nel giro di tempo relativamente breve, fino a un mese, due mesi, tre mesi, la maggior parte dei sintomi psichiatrici regrediscono se non c'è una patologia psichiatrica di base. Invece, se c'è una, come dire, una situazione latente, per cui magari facendo una vita tranquilla, rilassata, normale, questo tipo di patologia non sarebbero mai emerse, può sotentizzare delle patologie psichiatriche, poi una volta sotentizzate, poi difficilmente c'è una restituzione di integro che ritorna nel non uso anche di cocaina a un quadro molto meno grave, ma non necessariamente, chiamiamolo di ritorno alla sanità. Questi sono i problemi fondamentali che può dare la cocaina. Quindi non disturbi alla memoria, cioè piuttosto che all'attività lavorativa, eccetera? Sì, nel senso che, in acuto, nel senso che noi abbiamo una persona dipendente a cocaina che ha un consumo settimanale oppure più volte la settimana, quotidiano, evidentemente ci sono anche problemi per quanto riguarda appunto la memoria a breve termine, cioè quindi l'attenzione rispetto a una serie di cose, quindi la difficoltà di concentrazione di memoria perché ha un consumo che continuamente interrompe il funzionamento. Perché questa sostanza crea continuamente dei picchi in alto e in basso, giusto? Certamente. Però è ovvio che nell'acuto non è soltanto i tre minuti dopo che uno l'ha presa. Ecco, questo è da chiarire, che si pensi in acuto, tre minuti, basta, fine, si torna come nuovi. No. Se una persona la usa con una certa continuità almeno qualche volta a settimana, uno o due volte, ma anche banalmente uno o due volte a settimana, come dire, lo squilibrio che crea a livello psichico non crea degli alti e dei bassi che difficilmente si riescono a compensare. Degli sbalzi di umore che si possono accumulare. Quello che sicuramente è vero è che se questa persona arriva a una completa cessazione dell'uso completa e dura e duratura ovviamente questi sintomi regrediscono. Questo sì. Questo è la buona notizia. Questa è la buona notizia della terapia. Sbalzi di umore che magari non si pensa che possono essere rilocati all'uso della sostanza. Sì, però è molto importante anche in un processo di cambiamento, quando si raggiunge una condizione di astinenza che ci sono ancora una grossa distimia. Cioè quindi l'umore non rimane stabile. Cioè un mese dopo un raggiungimento di una condizione di astinenza non si ripristina un equilibrio dal punto di vista dell'umore. Nel senso che occorre un tempo per cui anche i neurotrasmettitori si risistemino. Diciamo che noi diciamo che mediamente un tempo buono per ritrovare un equilibrio nella gestione ma non soltanto di cose pratiche magari quello avviene anche prima ma proprio del suo equilibrio emotivo di umore è un tempo minimo di astinenza per poter vedere dei frutti di un certo consistenza è almeno sei mesi. Adesso come utilizzo di questa sostanza credo che sebbene si diceva nelle scorse puntate che comunque i vostri pazienti sono più su con l'età è una sostanza che però essendo come dicevamo prima molto accessibile alle tasche di un po' tutti l'utilizzo è quindi alla portata anche di ragazzini. Quindi possiamo dire anche se sicuramente non abbiamo casistiche in merito che ci sono delle dipendenze ci possono essere delle dipendenze anche di ragazzi giovani o molto giovani come anni indietro era lo spinello adesso potrebbe essere che... Allora diciamo che la dipendenza non è adesso c'è o non c'è è un processo certo che richiede una serie di cambiamenti legati ovviamente sia diciamo agli effetti farmacologici della sostanza ma anche al contesto di vita cioè adolescenti non allora ovviamente l'approccio alle sostanze può avvenire in età molto giovane cioè già alle medie può capitare può capitare però diciamo che la cocaina gli studi ci dicono che tende a essere come dire avvicinata un pochino più in là comunque sempre in adolescenza cioè 17 18 19 anni in generale ecco poi nel caso specifico c'è sempre l'eccesso e la condizione di consumo e quindi e a questo diciamo in questa situazione può crearsi un processo di dipendenza cioè che è legato al fatto del consumo dell'ambiente di vita delle scelte che comporta cioè difficilmente noi abbiamo almeno ragazzini che sono già in una condizione di dipendenza conclamata come si può trovare però è un processo che diciamo è un processo di cambiamento nello stile di vita nelle scelte che si fanno che a volte esordisce in adolescenza che però poi di solito richiede come dire un cambiamento radicale perché è la frequentazione solo di consumatori la frequentazione comunque di situazioni di spaccio lavorando per tempo magari si può evitare di arrivare poi alla dipendenza vera e propria la cosa importante è appunto sempre una relazione che sia attenta e calda da parte dei familiari rispetto noi stiamo parlando di adolescenti quindi di ragazzini assolutamente quindi di ragazzini di genitori che vanno seguiti seguiti nel senso che non solo seguiti in termini di controllo ma che vanno seguiti nella loro crescita come si come è necessario rispetto comunque a queste come tutte le altre problematiche del consumo che non va sottovalutato perché è diventato approcciabile in maniera molto facile cioè quindi e di solito i ragazzini non utilizzano solo sostanze ma è una condizione di poliabuso cioè l'alcol fa da da mix diciamo quello che si dice mix esatto in quello che può essere una sperimentazione di varie sostanze che poi piano piano si focalizza all'interno di una scelta prioritaria rispetto a una sostanza assolutamente che può essere appunto la cocaina nei giovani è spessissimo associata all'alcol cioè non c'è una condizione c'è una condizione che inizia e inizia con l'alcol le birre poi la cocaina poi i super alcolici o comunque altre birre e poi la finale di solito è la cocaina perché come dire come dicono anche gli adulti ti riprendi un po' ti ripigli devo dire che i nostri pazienti molto prima che i farmacologi trovassero una sostanza che si chiama il cocatilene che è un insieme di cocaina e alcol che all'interno del nostro organismo permette all'effetto della cocaina di durare di più perché l'effetto della cocaina è abbastanza breve e al tempo stesso alla cocaina di svegliare dagli effetti rimbambenti dell'alcol e questo è possibile appunto perché si forma nell'organismo questa mix che è il cocatilene i nostri pazienti anche prima che lo scoprissero i farmacologi l'avevano già scoperto nel senso che avevano scoperto che mettendo insieme queste due sostanze l'effetto migliorava cioè migliorava per quello che era si prolungava eccetera ma appunto questo non è una cosa che si possa dire visto che i nostri consumatori lo sanno molto prima di noi però come diceva la dottoressa cioè è difficile che in un'età particolarmente cioè se un ragazzino ha 17 anni può essere già definito da un punto di vista strettamente medico come dipendente vuol dire che la situazione è grave gravissima e esiste anche probabilmente all'elà della dipendenza tutto un contesto familiare affettivo relazionale che in qualche modo è da far funzionare meglio perché la cocaina è una sostanza che impiega un po' di tempo a fare danni lentamente e proprio perché impiega lentamente a fare danni uno quasi non si accorge dei piccoli grandi cambiamenti che mette in atto nel giro di due tre quattro anni di consumo sempre ingravescente quando poi viene fuori il problema acuto per cui in genere si ripolgono da noi tornare indietro non è impossibile si può ma bisogna bisogna lavorare ecco bisogna lavorare molte volte appunto c'è sempre un'associazione altra cosa oltre all'alcol oppure al policonsumo di altre sostanze c'è il gioco il gioco è diventato il gioco le slot machine per esempio sono come dire una condizione che sotto effetto di cocaina viene cioè si attiva come dire quello che viene di un comportamento compulsivo e quindi questa reiterazione dello stesso comportamento per cui c'è un consumo di cocaina e vengono e che si comincia a giocare con le macchinette per chi può avere anche la possibilità economica quindi di poter ma anche chi non ce l'ha nel senso che si indebitano si indebitano cioè nel senso riescono ad avere del denaro e lo utilizzano in maniera impulsiva senza vedere il problema che poi questi soldi andranno restituiti eccetera in quel momento l'unico obiettivo è fare questo perché c'è già la cocaina che slatentizza in qualche modo una condizione disinibita e quindi a maggior ragione non c'è una condizione di inibizione o di freno come ad esempio devo dire che tante volte parlando con i miei pazienti dico sempre che i nostri pazienti non hanno per definizione tante volte il senso del denaro perché è ovvio che la cocaina ha comunque un costo anche decisamente elevato e quindi se queste persone a qualsiasi livello cultural social eccetera hanno tutte le mani un po' bucate questo è anche ovvio quando si lavora poi terapeticamente coloro che lo riconoscono nel senso che se loro avessero il senso del denaro che si spende il senso del denaro sperperato si fermerebbero un attimo a pensare e capirebbero anche questo è evidente che questa l'idea del denaro è una componente che non c'è nei nostri pazienti perché quando poi stanno bene incominciano invece a riscoprire e a utilizzare l'idea di quanto di che significato ha il denaro che se no non hanno non hanno sulla cocaina non hanno su tante altre cose nel senso che tanto è tanto si spende cioè non non esiste proprio una percezione sul denaro ma quando l'effetto diciamo della cocaina termina quindi abbiamo detto che si fa l'utilizzo nell'arco di X tempo più volte arriviamo al giorno dopo il giorno dopo presumo ci sarà un mal di testa o quello può darsi un ribambimento eccetera quello che ricorda il paziente è tutto ciò che è capitato o è un quando c'è una condizione di uso protratto cioè nel senso non è una volta all'anno e quindi vabbè diventa una cosa di questo genere ma quando comincia ad essere un appuntamento fisso una due volte a settimana piuttosto una volta di un incerto ma comunque l'appuntamento fisso tutto ruota all'interno di questo appuntamento con la sostanza e tutti i pensieri dei nostri pazienti sono centrati su quello quindi non c'è molto spazio per pensare al costo al mica costo alle relazioni che si possono più o meno rovinare è la prima cosa nella scala di valori anche se l'uso magari è apparentemente uno pensa sempre ma se non la uso tutti i giorni non ho problemi certo è ovvio che se uno la usa dieci volte al giorno è peggio di quello che la uso una volta ogni settimana però è proprio una forma mentale anche perché riprendersi dagli sbalzi emotivi della cocaina come diceva prima la dottoressa non è una cosa che cioè l'effetto come dire piacevole di per sé quello maggiormente ricercato dura dieci minuti un quarto d'ora quello che è dipende dalla ripetizione della ripetizione del consumo dell'apple down ma l'effetto di smaltimento della sostanza non è altrettanto cioè non è che poi in tre minuti e quindi diciamo che tutta la percezione di quello che c'è intorno è un po' alterata ma a tutti voglio dire sì ma come dire quante volte i pazienti arrivano dicendo di aver come dire sofferto no di sensi di colpa cioè nel senso di riconoscimento anche di conseguenze negative che il consumo determina nella famiglia eccetera oppure un paziente che dice la mia vita non è più una vita perché tutto è centrato sulla sostanza cioè quando vado a pescare quando vado mi ritrovo al bar quando comunque vado a cena cioè qualunque condizione quando anche rimango in famiglia aspetto che sia finita non so la festa di Natale perché poi cioè tutto è in funzione di quello che sarà l'uso e quindi piano piano si perdono ovviamente come dire i valori della vita ma anche i piaceri e il paziente non è che non se ne rende conto se ne rende conto ma è un po' una condizione che ambigua ambivalente per cui se ne rende conto nel momento del non uso ma questo non è non è attivatore di un cambiamento perché rispetto all'attesa di piacere di gratificazione è comunque qualcosa che ha un grande valore tant'è che quando arrivano i nostri pazienti non godono più quasi nel consumare ma nell'attesa che il consumo avrebbe prodotto in loro uno stato di benessere che ormai hanno perso da tempo perché comunque è più è l'attesa di un ricordo di una gratificazione di un'esperienza che hanno vissuto ovviamente molto tempo prima e che non viene più una sorta di ansia anticipatoria esatto ma che è assolutamente attivante il consumo in un circolo vizioso circolare anche perché più diventa complicata la dipendenza più uno razionalmente lo capisce che poi dopo usa la sostanza sta bene per un'ora benissimo e poi peggiora la percezione del sé il senso di colpa la disistima cioè tutte cose che gli fanno star male perché non è che dovete pensare che siano contenti anche se dicono un sacco di bugie di bugie però non stanno mica bene poverini e quindi nonostante lo sappiano perché non è un discorso l'azione loro lo sanno però è innescare un cambiamento che gli permetta di fronteggiare questa situazione questo è il vero problema dell'approccio iniziale del paziente e questo è il vero problema perché è molto frequente che il paziente cocainomane in assoluto di per sé ma in particolar modo più si è inesperto nel trattarlo è un paziente che dopo un paio di incontri con la regionale terapeuta fugge via cioè non ha un riscontro magari immediato di beneficio e quindi è facile che scappi via bene io direi prima di continuare la nostra chiacchierata di andare in una piccola pausa di pubblicità subito dopo sarà ancora niente panico a tra poco hai un decreto ingiuntivo dalla banca la banca ti sta chiudendo i fidi sei stato ingiustamente segnalato al CRIF la banca non ti concede più liquidità JD Group la soluzione che cercati servizi specializzati dedicati a privati aziende enti pubblici prima consulenza e preventivo a costo zero pagamento solo a obiettivo raggiunto JD Group la più importante realtà in Italia diffida dalle imitazioni JD Group numero verde 800 200 054 www.jdgroup.it questa per noi è musica mettetevi comodi il divertimento per tutta la famiglia è al Center Park Center Park per un'entusiasmante estate di divertimento il grande parco acquatico con scivoli mozzafiato 4 piscine solarium area termale con sauna idromassaggio e area fitness e se ami lo sport campi da volley e calcetto inoltre area picnic ristoro ombrelloni sdraio e ogni domenica sempre nuove attrazioni Center Park e la tua estate sarà fantastica ad Antegnate Bergamo sulla statale son cinese ampio parcheggio a Svuotiamo tutto per il nuovo Expo Mobilius, mobili per la tua casa Svuota tutto Da Mobilius a Castegnato in via Padana Superiore Potete trovare cucine, soggiorni, camere e camerette Scontatissimi per il nuovo locale Mobilius, mobili per la tua casa E a Castegnato in via Padana Superiore 66 Affrettati, svuotiamo tutto per il nuovo Expo E bentornati agli amici telespettatori Bentornati a Niente Panico Stiamo parlando di dipendenza da cocaina Insieme a noi la dottoressa Antonia Cinquegrana E la dottoressa Tiziana Bussola E interessava, visto che come dicevamo Qui a Brescia abbiamo l'onore Io ho l'onore di averla in studio Ma Brescia ha l'onore di avere questa eccellenza Nella cura della tossico, diciamo della dipendenza da cocaina Mi chiedeva appunto come fosse l'approccio con il paziente Cioè la terapia, è una terapia più Esistono dei farmaci? Mi sembra di... Non molti Non molti Ecco quindi il lavoro che il paziente Quindi a questo punto il paziente che ha una reale dipendenza E quindi è sotto cura Il lavoro qual è che deve fare? Allora E quindi il vostro lavoro Allora diciamo che per la cocaina purtroppo Dei farmaci risolutivi nel trattamento della cocaina Ad oggi purtroppo non li hanno ancora inventati Si sta molto studiando, si sta molto sperimentando Ma ad oggi tutti i vari trial scientifici che hanno fatto su varie sostanze Purtroppo non hanno dato i risultati sperati E quindi per ora il trattamento non passa attraverso dei farmaci Dei farmaci possono essere usati per dei sintomi in acuto Per cui una persona che è eccessivamente ansiosa Una persona che ha una psicosi acuta Per una persona che ha una tachicardia Cioè farmaci che però non risolvono il problema della dipendenza In sé da cocaina purtroppo E quindi il trattamento passa attraverso una psicoterapia Che è quella che facciamo di la dottoressa Bussola O un counseling strutturato Il counseling vuol dire che è una forma meno strutturata Meno approfondita Ma è sempre un sostegno E sia il counseling che la psicoterapia Cosa vuol dire? Che la terapia passa attraverso la voce Il parlare Ma non solo il parlare Perché ad oggi si dice Ma parla che ti sfoghi No, è un intervento strutturato con degli obiettivi Con dei tempi Con delle modalità specifiche Che serve a aiutare il paziente nel cambiamento Perché in realtà è necessario che il paziente possa cambiare Che è anche poi la terapia che fa più male Nel senso che poi vengono a galla tante cose Che attraverso la psicoterapia si realizza Devo dire che noi come gruppo specialistico In realtà abbiamo nel tempo strutturato delle modalità comuni E delle modalità differenti Cioè nel senso che ognuno di noi è uno psicoterapeuta Ha una sua formazione Quindi utilizza degli schemi di riferimento terapeutici Per cui possono esserci degli approcci anche differenti Io ad esempio ho un approccio cognitivo comportamentale Che può essere supportivo e espressivo Ma ci sono delle parti comuni che noi invece abbiamo strutturato Ad esempio proprio per il fatto che i nostri pazienti Non possiamo trattare con dei farmaci Devono avere una presa in carico come dire molto frequente Cioè il paziente deve vederci spesso Perché tante volte ha situazioni di ansia Che non possono essere gestite Quindi tante volte dobbiamo essere gestite Per cui ci vuole una certa flessibilità Di trattare questi pazienti E all'inizio prima che vengono fuori eventualmente Se ci sono, tante volte non ci sono Altre patologie o altre problematiche È tutto molto centrato sul sintomo Quindi si lavora sul sintomo Si lavora molto sul sintomo Come punto di partenza Per poi eventualmente se necessario Non sempre necessario Aprire altre cose Ma all'inizio si è molto centrati sul sintomo E poi casomai si aprono i vari cassetti E poi si aprono i vari cassetti Anche perché se non si toglie O si riduce fortemente una sostanza psicotropa con la cocaina Diventa difficile Si può parlare Ma è anche tempo perso Affrontare in maniera concreta e terapeutica Altre problematiche E credo che un altro Quello che mi stupisce sempre È la forza Che un psicoterapeuta o un medico come voi Deve avere Anche per distinguere la verità Dalla bugia che può dire il paziente Io dico sempre Può essere questa o una stupidata Che magari sto dicendo No, è molto vero Però io dico sempre ai miei pazienti Che il percorso di cambiamento È un percorso che passa attraverso La possibilità di costruire La verità e la sincerità rispetto a se stessi E quindi passa attraverso una condizione di profonda onestà Nel senso che alla fine il paziente Non può altro che essere il paziente Quindi se ha utilizzato queste condotte di evitamento Nella pratica quotidiana È possibile che le riproduca anche un po' con noi Qual è la condizione diciamo terapeutica È che con noi è più facile svelarle Perché non siamo in un contesto giudicante Perché siamo in un contesto Che in qualche modo il paziente sceglie Quindi è lui il protagonista Cioè è lui l'artefice della possibilità di cambiare Noi ovviamente lo aiutiamo Quindi va bene, è anche la nostra competenza Ci aiuta in qualche modo a svelare Questi evitamenti rispetto Ma sono i primi passi del lavoro che si fa Cioè il paziente arriva da noi In qualche modo per quello che è Quindi utilizzando Arriva da voi perché vuole comunque Perché è in una fase in cui pensa Che è opportuno Come diceva la dottoressa Cinquegrana Che ci sia qualcuno che lo aiuti Perché la percezione della presa di controllo E del danno Sulla quale lui si è già Come dire in modo ambiguo Più volte confrontato È in una situazione Da cui non esce È un impasse Ecco Per cui è vero che il paziente Quando viene e apre la nostra porta Cerca un aiuto Però dal tentativo Dell'aiuto all'esserci veramente Per farsi aiutare È un lavoro terapeutico È un lavoro terapeutico Sul sintomo Ma si lavora sulla relazione Sull'alleanza terapeutica Sul rapporto di fiducia Rispetto a una Come dire A un obiettivo comune Per esempio Il paziente spesso dice Io vengo perché voglio smettere di usare cocaina Quante volte Questo è un obiettivo Inizialmente Irrealistico Non perché non sia desiderabile Perché non sia Come dire L'obiettivo del lavoro Ma al momento Bisogna cominciare a imparare No? Una serie di strategie Una serie di Anche di responsabilità Rispetto alle scelte che si fanno Che è faticoso Diciamo La possibilità al paziente Di conoscere il terapeuta Il terapeuta di conoscere il paziente Assolutamente E dargli la possibilità di capire anche il percorso che andrà a fare Che non è propriamente una passeggiata Sì 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 Ma attraverso appunto un lavoro che è Che si basa appunto Su due canoni importanti appunto di delle strategie terapeutiche Che sono Aiutare il paziente a rimanere motivato rispetto al cambiamento E quindi ad attribuire importanza e impegno rispetto al cambiamento E lavorare su un'idea di alleanza Cioè insieme lavoriamo per Raggiungere l'obiettivo Certo E questo diciamo sono le due Altre due cani Più altri come dire Altri piccoli ingredienti terapeutici Quasi sono quelli essenziali E poi direi che forse Una cosa che all'inizio Viene molto capita dai pazienti Forse di più Meno dai colleghi Noi proponiamo ai nostri pazienti Sempre anche dei controlli urinali Di controlli urinali Che è il mezzo attraverso il quale Il mezzo attraverso il quale i pazienti imparano anche tra virgolette a dire la verità Cioè tante volte ma non perché sono dei mentitori Ma perché magari è molto forte il loro desiderio Di voler dire quanto va bene il programma Di quanto sono bravi eccetera Perché è una specie di fantasia che gli piacerebbe forse una realtà Non perché necessariamente sono come direte di orribili bugiati E invece il fatto di fare anche i controlli urinari serialmente Prima di tutto li abitua a porsi in maniera adeguata alla realtà Per cui non fanno ad esempio il colloquio di un'ora Dicendo quanto tutto va bene Quando poi la volta dopo compaiono gli esami delle urine Che ne dimostrano l'utilizzo Perché sanno che comunque la realtà Su cui dovranno confrontarsi e lavorare Può essere molto spiacevole Ma è questa E che almeno al loro terapeuta queste cose Cioè se può essere difficoltosissimo dirlo in famiglia Sul lavoro eccetera Se non lo dicono al loro medico Al loro psicoterapeuta Al loro psicologo A chi lo dicono All'analisi delle urine non si scappa Quella è la verità È uno È un aspetto del lavoro Per dire raccogliere le urine non è di per sé terapia Cioè come dire non è una terapia Non bastano Però all'interno del contesto terapeutico Aiutano moltissimo i pazienti Anche avere dei paletti Di controllo Di controllo Di controllo sulla realtà Di controllo sulla realtà E poi diventa un controllo Che imparano ad usare Perché quante volte Ovviamente non tanto all'inizio Ma durante il percorso Del terapeutico Il paziente dice Dovevo venire E questo ovviamente Quando già Alcuni aspetti compulsivi Sono stati controllati Perché ecco Diciamo anche il controllo oggettivo Dell'esame tossicologico È usato dal paziente Come un limite Dovevo venire da lei Dottoressa Ma il venire da lei Dottoressa Era anche E non potevo quindi usare Ma quindi può essere anche che un paziente Che comunque si spaventa Dopo un certo tempo Diciamo si spaventa Dal fatto che Comunque Magari vuole Utilizzare la sostanza L'ha usata E quindi per un po' Sparisca Diciamo Dalle vostre cure Ma questo può succedere Questo può succedere Ma in questo caso Esce da quello che è il discorso Del programma terapeutico E si riparte da capo? Diciamo che dipende moltissimo Dal contratto terapeutico Che si ha Con il paziente Degli obiettivi che si ha In un qualsiasi psicoterapia Ovunque sia l'orientamento In un orientamento Con il tipo comportamentale Quindi è Nella fase iniziale Della terapia Più marcato Però che sia In maniera più Marcata Perché c'è una struttura Di un contratto terapeutico Firmato eccetera Che sia meno Comunque esiste Un obiettivo su cui Ci si deve lavorare E si vuole Il paziente comunque Deve prendere Un impegno Assolutamente Con il profiterapeuta Esattamente E si cerca di far sì Che il paziente Faccia il massimo Di quello che può fare Il massimo In maniera realistica Come diceva la dottoressa prima Cioè Premesso che I nostri progetti migliori Sono quelli del paziente Che ci vede una sola volta Poi starà con noi Un tempo da sei mesi A un anno Più o meno E non lo userà Una o due volte a settimana Dipende da come sta il paziente E non lo userà mai più Per tutta la vita Questo è il nostro progetto Tipo ovviamente 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 Non sempre è così Perché magari Per arrivare a questo Diciamo Raramente E uno magari ci lavora Tre, quattro, cinque mesi Prima di innescare Una situazione di cambiamento Che poi durerà nel tempo Con questi successi Però capita anche Che il paziente Per esempio Cioè Come dire Non tutti i pazienti Che iniziano a lavorare Per il cambiamento Poi rimangano all'interno Del programma Perché quando io dicevo Che il paziente È anche l'artefice Di questo cambiamento Ed è libero di scegliere No? Certo La libertà È anche legata Al fatto che A un certo punto Non fa altro Che ripristinare Per esempio Un meccanismo Diciamo Non sono tanto frequenti Però un meccanismo Tipico no Sono riuscito A raggiungere Una condizione Di contenimento Del consumo Di astinenza Adesso mi sento bene Non so Mia moglie è più contenta Le cose vanno E quindi Abbandono Ecco Diciamo che di solito Questa condizione È una condizione Altamente Come dire Precaria Perché le ricadute Sono una condizione Molto facile Molto facile Meno è ripristinato Il controllo Sulla sostanza Più la ricaduta È facile E duratura E impegnativa E poi Altra cosa da dire Premesso che non è Una legge Fisica Irrimediabile Però diciamo Che quando uno Ha perso fortemente Il controllo Su una sostanza In realtà Non ha Potenzialità Infinte Cioè Il sogno Dei nostri pazienti Sarebbe quello Di tornare All'inizio Del programma Come fanno con noi Ha un uso Saltuario Molto controllato Dove si gode Molto nell'uso Della sostanza Quell'una tantum Ecco Quando una persona È diventato E in genere Quelli che vengono Noi sono gravemente Dipendenti Difficile che una persona Con piccoli consumi Affronti un programma Terapeutico Così complesso Non ne vedrà necessità Ecco Questa condizione Di controllo Saltuario Sempre controllato Sempre controllato Senza creare danni È una situazione Che magari si può Ripristinare Per un periodo Limitato di tempo Però Prima o poi Fa patatrac Perché Magari in situazioni Ottimali Della vita Della persona Riesce a tenere Un suo equilibrio Magari anche per qualche mese Forse anche per un anno Ma prima o poi Nella vita di tutti i giorni Ci possono essere Disequilibri Problemi Difficoltà Cioè E di conseguenza Quello che sembra Un equilibrio possibile Per Dai 30 ai 90 anni Dopo magari poco In determinate situazioni Queste equilibrio si rompe E in genere Quando si rompe Sono ricadute molto gravi Cioè Dopo aver perso Fortemente il controllo Ritornare a una situazione Di piccolo uso Non è vietato dalla legge È un equilibrio Della dipendenza Cioè che appartiene A tutte le sostanze Psicoattive Cioè anche Io dico sempre Anche le sigarette Da tabacco Esatto Assolutamente Quanti forti fumatori Di due pacchetti Di sigarette Poi dopo fumano Una sigaretta o due Dopo il cena O smetti Cioè in genere È molto comprensibile Per chiunque Di noi abbia fumato Che È difficile che Certo Una persona che fumava Cinque o sei sigarette Poi può arrivare A fumarne uno o due Ma uno che fumava due pacchetti Sì è difficile E poi dopo Ma che dieci Ma no Cioè o peggio Fumo una sigaretta ogni tanto Sì oppure smetto Per un certo tempo E poi per caso Ricomincio No Il per caso Ha una durata Magari Un mese Un mese e mezzo Per le sigarette da tabacco Qualche giorno Di solito Siamo state due forti fumatrici Entrambe Abbiamo una grande esperienza Su questo Personale Anche direi Però tutti e due Avete smesso? Sì Definitivamente Senza accendere una sigaretta Mai più E per forza Nel senso che Due forti fumatrici Non hanno grande chance O smettono O smettono O continuano Cioè non Assolutamente Quella famosa sigaretta Dopo pranzo e dopo cena Che è il mito di qualsiasi Fumatore Però sbottese Dopo il caffè Dopo il caffè Non esiste per due fumatrici Cioè E così anche per le dipendenze D'assoluto Cioè il meccanismo mentale È lo stesso Al di là della sostanza Assolutamente L'ultima domanda Per gli ultimi minuti Che abbiamo È Chi è cocainomane Scrive Spessissimo Chi ha paura Di malattie cardiache Ha ragione Quindi è un qualcosa Di Legato Alle proprie paure Che attraverso la sostanza Vengono fuori O è proprio Cioè un qualcosa Di come abbiamo detto prima Siccome la pressione si alza Innanzitutto C'è l'effetto immediato Della cocaina È una forte Un attacchi cardia Cioè quindi Di fatto Cioè è un'esperienza Da panico È un'esperienza Comunque Eccitante Che però I nostri pazienti Hanno già Ha avuto varie esperienze Dove questa condizione Cioè l'idea Che possano morire È passata Nella loro mente No? Quindi per un attacco cardiaco Perché arrivano A una condizione Molto simile Quindi all'attacco cardiaco All'attacco cardiaco Oltre agli attacchi di panico Perché l'altro Lo capisco Anche perché Non sempre Cioè che l'attacco cardiaco Ad esempio È più o meno forte È ovvio che se uno usa la cocaina Questo sintomo Lo vive Tutte le volte che lo consuma Perché più o meno Di più o meno Però c'è Se no Qualcosa non va Della sostanza Cioè la sostanza è sbagliata Però Non sempre dura Tre minuti Quattro Che è il tempo Che uno può immaginare Magari un attacco cardiaco Che si innesca Le dura Quattro ore Allora Uno che incomincia A avere un attacco cardiaco Di quattro ore Dove la stessa cosa Che avere Se poi ha questa paura E questa paura Diventa Per cui diciamo Che la cocaina Per di più Incrementa l'ansia E fa anche Vedi attacchi di panico Ma che uno Abbia paura Devo dire però Che purtroppo Non hanno abbastanza Paura Cioè noi dovremmo Avessero più paura Non se la ricordano Non se la ricordano Ma è abbastanza bene In maniera sufficientemente Esatto Purtroppo Perché Perché poi c'è il sollievo Che non è successo niente Che poi è passato Non è successo niente Quindi E quindi alla fine Onestamente Se avessero più paura Noi saremmo più contenti Secondo noi Ce ne hanno molto Molto meno Di quello che dovrebbero avere Insomma Noi aspetteremo di più Assolutamente Ma come tutte Come tutte Le dipendenze E torniamo anche Il discorso del fumo Se tutti avessero più paura Del cancro Nel cancro del polmone Delle sigarette Non c'è Cioè la sigaretta Non c'è l'immediatezza Non è immediata Cioè il cancro Fumo oggi Ma il cancro del polmone Mi verrà tra 10-15 anni L'altra tachicardia O determinati sintomi Sono all'immediato Quindi Come oppure Non dobbiamo dimenticare Che tutta una serie di persone Senza avere psicologia acute Possono avere delle sensazioni Di essere spiati Di essere controllati Cioè Una sorta di maniera di persecuzione Quello c'è Però in genere Sanno che è collegato All'uso della sostanza E Sono indulgenti Sono indulgenti Sono indulgenti Bene Allora Io vado a ringraziare tantissimo Perché Come sempre È un onore E un piacere Grazie a voi Ospitare Oltre al fatto che comunque Sono cose importanti E credo che Lo scopo di questo programma È proprio divulgare E poter Grazie a voi Insegnare Sempre qualcosa A chi ci segue Quindi grazie Alla dottoressa Antonia Cinquegrana E alla dottoressa Tiziana Bussola Grazie mille Arrivederci Arrivederci Grazie Buona serata A voi Io vi aspetto Amici telespettatori Vi aspetto Come sempre Martedì prossimo Alle ore 22 Per l'ultimo Appuntamento Di questa stagione Sempre Con Niente panico Quindi diamo linea Al telegiornale E a voi tutti Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti